Sappiamo ormai da parecchio tempo che il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Questa volta possiamo dire che De Laurentiis non può affatto sbagliare, visto come è andata quest'anno. Dopo che Luciano Spalletti ha deciso di lasciare la squadra, sono arrivati ben tre allenatori nell'arco della stessa stagione. Quindi questa volta la scelta del tecnico non deve essere assolutamente sbagliata. Si sono fatti tantissimi nomi, si è parlato tanto di Antonio Conte che sembra essere veramente il sogno di De Laurentiis e poi in quest'ultimo periodo è uscito anche il nome di Gasperini, l'allenatore dell'Atalanta e si è fatto anche quello di Stefano Pioli che a quanto pare la sua avventura al Milan insomma giungerà al termine e quindi anche il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Invece in queste ultime ore sono uscite delle notizie in merito a Vicenzo Italiano. Quindi De Laurentiis sembra che sia pensando all'allenatore della Fiorentina. Io vorrei chiederti secondo te quale allenatore dovrebbe prendere in Napoli. Pensi che sia uno di questi nomi che ho fatto in questo video o invece hai in mente qualcun altro e perché? Scrivi nei commenti la tua opinione, ti invito ad iscriverti al mio canale YouTube così sarai sempre aggiornato su tutti i prossimi video e noi ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao!